Leonardo Silva Revisore Voglio raccontare una storia che conoscete bene. Nell'inverno del 2021, un dipolo di pressione si è piazzato sopra l'Europa, quindi un'alta pressione, da nord-ovest giù fino a sud-est, impedendo a quei sistemi meteorologici che normalmente portano acqua e neve sul continente, poi sulla nostra penisola, di arrivare. E quindi non è piovuto, non è nevicato. Gli agricoltori si sono allarmati. In dicembre del 2021, forse vi ricorderete, già si parlava di meno della metà dell'accumulo nevoso che di solito si ha sull'arco alpino e anche sull'alta valle del Po. Quell'acqua che poi da neve diventa acqua liquida, in primavera quando si scioglie, alimenta il grande fiume proprio nel momento in cui serve per l'irrigazione. Quindi gli agricoltori erano abbastanza allarmati. Arrivò gennaio, febbraio, a questo punto era abbastanza chiaro che c'era un problema serio. Poi la Russia ha invaso l'Ucraina, è venuto a piovere, un po' come neve al sole, la preoccupazione sulla siccità è evaporata, se n'è andata dal dibattito pubblico. Ma in realtà non era affatto passata, tant'è che alla fine di marzo, dalle secche del Po, emerge un semicingolato tedesco. Questo era un carroarmato che i tedeschi avevano affossato, affondato nelle acque del Po quando erano in ritirata, nel 1945. e da allora non era mai emerso, eccetto appunto nel marzo del 2022 tra Modena e Reggio. Arriva aprile, maggio, giugno, a questo punto gli agricoltori stanno tirando fuori acqua dal po', vi ricorderete il fiume è andato in secca varie volte, le temperature erano molto alte, quindi si arriva acqua per irrigare. A giugno c'è l'emergenza, a luglio, le temperature fanno spaccare la marmolata, il grande ghiacciaio che è rimasto dall'ultima glaciazione, purtroppo travolgendo alcuni escursionisti che passavano sotto. Ad agosto, siamo nel 2022, il paese è letteralmente a secco, il governo dichiara l'emergenza. Si chiamano le elezioni, due settimane prima delle elezioni comincia a piovere. il Misa, fiume marchigiano, esonda e mette sott'acqua Senigallia, distruzione a cose e persone. La siccità scompare dal dibattito pubblico, non se ne sente più parlare. Adesso c'è il problema delle alluvioni, il problema del rischio idrogeologico, e di quello parliamo, se attraversano le elezioni senza che si parlasse di siccità. Ottobre e novembre ci preoccupiamo delle bombe d'acqua, le famose cosiddette bombe d'acqua, una delle quali cade e colpisce in pieno Ischia, dove poi crolla un pezzo della montagna travolgendo case e facendo vittime. Ovviamente la siccità non era finita, tant'è che alla fine dell'anno, in dicembre 2022, siamo da capo. Gli agricoltori notano che non c'è accumulo particolarmente sull'Alta Valle del Po, meno 70% di accumulo nevoso. siamo di nuovo in pericolo. A questo punto la cosa si fa seria perché le produzioni agricole si rischiano di essere in stress per due anni consecutivi. Gennaio, febbraio 2023, i giornali parlano di siccità. A questo punto preghiamo per l'acqua, speriamo che venga a piovere, lo diciamo tutti. Qualcosa qualcuno ci ascolta, perché poi arriviamo a maggio e le famose cataratte del cielo si aprono e scendono particolarmente sulla Romagna, in tre giorni, la quantità di acqua che di solito scende in metà anno. La distruzione è spaventosa, naturalmente 30 e più fiumi esondano, migliaia di frane lungo tutto l'arco appenninico e piede montano, 8 miliardi di euro si stima di danni. E da allora continuiamo in questa danza tra momenti siccitosi e caldi in cui ci preoccupiamo di avere abbastanza acqua in cui poi scendono queste forti precipitazioni che interrompono la nostra vita, anche qua a Milano, anche recentemente. Ora questo non è un problema solamente italiano. Avrete visto in settembre del 2023 il ciclone Danio è partito dalla Grecia, ha fatto danni in Turchia, in Bulgaria, in Grecia, in Tessaglia, addirittura ha lasciato un lago che non c'era prima. Poi ha attraversato il Mediterraneo, ha virato verso la Libia, verso la Cirenaica, ha colpito Derna, tragicamente, facendo collassare due dighe che si sono portate via nel giro di pochi minuti migliaia di persone. Ma non c'è dubbio che l'Italia in particolare si è scoperta vulnerabile in questi ultimi anni. Si è scoperta vulnerabile. E cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Stanno succedendo due cose importanti. La prima, presumo non averte sentito parlare, e cioè che il clima sta cambiando. Il clima si esprime sul territorio attraverso l'acqua. Le alluvioni, le grandi precipitazioni, le siccità, la lunghezza delle siccità, queste sono espressioni del clima sul territorio. La statistica di questi eventi è il clima. Se il clima cambia, cambia questa statistica. Nessuno di quegli eventi che vi ho descritto può essere attribuito esattamente e unicamente al cambiamento climatico. Ma la statistica di questi eventi sta cambiando esattamente come ci aspettavamo ormai da anni, da più di 40 anni. Ma c'è un'altra cosa che sta succedendo, che è molto importante, e cioè che le istituzioni e infrastrutture che noi avevamo disegnato e costruito per anni per proteggerci da quella statistica, per contenere quella variabilità, quelle istituzioni e quelle infrastrutture stanno fallendo. Quelle istituzioni e quelle infrastrutture che sono fondamentali nella vita di tutti noi, è per questo che presumo nessuno di voi guadi un fiume quando va al lavoro, è per questo che tutti noi possiamo aprire un rubinetto in cucina, avere l'acqua senza dover andare al fiume la mattina con un secco. Quelle infrastrutture, quelle istituzioni si stanno rivelando non più correttamente dimensionate per gestire la variabilità che si sta manifestando. Allora a questo punto vi dovreste chiedere ma da dove vengono queste infrastrutture e queste istituzioni? Prendiamo la Romagna, per esempio. Queste infrastrutture sono il prodotto di un processo storico, di un processo storico in cui ogni generazione ha trasformato il territorio per sostenere un particolare progetto sociale, politico e economico. La storia parte da lontano. La Romagna fu disboscata dai Romani duemila anni fa per sostenere l'urbanizzazione e la coltivazione della pianura. Nel 1400, per esempio, la Casa d'Este di Ferrara trasformò la Romagna e i fiumi romagnoli in funzione di un progetto politico di espansione ed economico. Poco tempo dopo il Reno, fiume che una volta era un affluente del Po, è stato rindirizzato attraverso il cavo benedettino in un vecchio ramo antico del Po, il Po morto di Primaro, è fatto defluire nell'Adriatico, creando da un affluente un fiume indipendente. E poi nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, durante il governo de Pretis, tutta l'Italia cominciò a implementare grandi opere di bonifica, anche in Romagna si cominciò la bonifica che continuò fino alla metà del XX secolo, fino al 1950, trasformando quindi quella che era stata storicamente una palude in uno dei territori agricoli più produttivi e industrializzati della penisola italiana. Fino naturalmente a maggio di quest'anno, quando è tutto collassato. Ogni generazione ha creato il proprio futuro, trasformando quel territorio. E adesso che si fa? Questa è la domanda. E adesso che si fa, no? E qui si rischia un equivoco, cioè che voi tutti, noi tutti, ci si giri verso persone come me, scienziati, e chiediate cosa ci dice la scienza, cosa dobbiamo fare. Ma la scienza, l'ingegneria, la tecnica, offrono risposte ma non possono selezionare la domanda. E la domanda, la domanda centrale nell'affrontare questi cambiamenti che stanno succedendo, è semplice ed è questa. Cosa volete vedere voi collettivamente quando guardate fuori dalla finestra? Che territorio volete per il vostro futuro? Che cosa volete vedere crescere attorno alle nostre città? Come volete vedere gestite le nostre risorse nel paesaggio? Queste domande non sono domande scientifiche, sono domande profondamente politiche. Profondamente politiche. Quando mi si chiede cosa posso fare rispetto al cambiamento climatico, spesso si cercano risposte come beh, facciamo una doccia più breve, oppure chiudiamo il rubinetto mentre ci laviamo i denti, cerchiamo di risparmiare acqua. E quelle sono cose importanti da fare, per carità. Ma non sta lì la soluzione in un paese alla frontiera del clima. Quello che serve è atto di cittadinanza, è impegno civico. Impegnatevi nei comuni a capire come viene gestito il vostro territorio. Impegnatevi nelle discussioni delle autorità al bacino. Impegnatevi nella politica in modo che i partiti non possano ignorare il problema del paesaggio e passare un'elezione senza preoccuparsi della siccità. L'ambientalismo, il preoccuparsi del clima, deve essere un atto civico. È un atto civico. L'ambientalismo deve essere un atto civico nel quale tutti assieme, come persone che abitano in un condominio e devono gestire il pianerottolo, il giardino, il cortile e la terrazza in comune, devono sedersi intorno al tavolo e trovare una sintesi politica al nostro vivere assieme nel nostro territorio. La cittadinanza attiva è l'unica soluzione nella gestione del nostro futuro in un paese, in un mondo che cambia. Grazie. Grazie.